Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di Thailandia, un aggiornamento importante per quanto riguarda la situazione della Thailandia, la situazione della riapertura della Thailandia Tanti di voi mi avete chiesto in questi giorni quando secondo me la Thailandia verrà riaperta senza alcun tipo di restrizione Sappiamo che dal primo aprile di fatto la procedura è un pochino più snella, non c'è più il tampone da fare pre-partenza Inoltre sono ormai chiari quelli che sono i dettagli della prossima fase che prevedono non più il test PCR all'arrivo in Thailandia ma sostituito da un tampone antigenico da fare all'aeroporto Adesso vediamo tutti i dettagli, vediamo anche un paio di notizie davvero interessanti che fanno forse da conferma per quello che è il plan, poi per la riapertura vera, quella senza Thailand Pass, quella senza tamponi Che avremo poi in questo 2022, come sempre ragazzi questa è la mia playlist Thailandia del mio canale YouTube Ci sono tanti video e consiglio di commentarli, guardarli, lasciarli un like ovviamente se ancora non l'hai fatto ti consiglio anche di iscriverti al canale Cliccando anche sulla campanellina per notifiche di lasciare un like anche a questo video per supportarlo con l'algoritmo di YouTube Come sempre ragazzi sigla e poi cominciamo Come sappiamo dal primo aprile sono state modificate le regole del programma Test & Go, non è più richiesto il tampone PCR alla partenza Ma chi sta pianificando un viaggio in Thailandia già guarda alle prossime decisioni che prenderà il CCSA per appunto normare i viaggi in Thailandia Quest'oggi andiamo a fare subito un aggiornamento importante Da maggio quindi sarà richiesto soltanto l'antigen test all'arrivo in Thailandia, non sarà più richiesto quindi la notte di quarantena in albergo Quindi i famosi alberghi SHA Plus In realtà l'utilizzo del tampone antigennico viene definito a maggio perché si vuole vedere quello che è l'impatto sulla curva del Songran, la festività capodanno tailandese Per poi decidere anche se due giorni fa era sparsa la voce che l'antigen test sarebbe partito già il 20 di aprile Tesi non ancora confermata o meglio non ci sono ancora conferme su questa ricostruzione Questo perché pare che la Thailandia voglia tagliare un po' i tempi per la temperatura vera perché si rese conto di non essere competitiva con gli altri paesi del sud-est asiatico Che in questo momento hanno di fatto totalmente aperti Per questo anche questa conversazione che si è avuto di portare l'antigen test viene vista ancora troppo restrittiva Le persone ancora non vogliono dover fare il Thailand Pass Non vogliono poi correre il rischio di arrivare in Thailand e risultare positivo anche al tampone antigenico Questo perché è ancora la quarantina richiesta per appunto chi viene trovato positivo Sono ancora dieci giorni, sicuramente tanti per quello che può essere poi l'impatto su una vacanza di due, tre settimane Quindi ovviamente ci aspettiamo anche che il governo tailandese pensi al fatto che un positivo in questo momento non può dover rimanere chiuso dieci giorni in albergo E quindi ci aspettiamo anche una revisione di questo protocollo, quindi questi giorni di quarantena per chi è positivo Altra notizia importante, pare che insomma la Cina a livello di turisti stia lavorando con viaggi organizzati a partire da Q4 Quindi parliamo di settembre e di fatto quindi questo potrebbe essere la dimostrazione che dopo due anni Dove di fatto i cinesi sono mancati a livello di viaggi organizzati Questo potrebbe far sì che appunto settembre, ottobre, novembre, dicembre Che se Q4 in realtà comincia ottobre Potrebbe essere effettivamente il periodo nel quale si andrà a riaprire i viaggi senza restrizioni, senza Thailand Pass Ripeto, questa notizia che viene appunto riportata da Beko Post che è sempre molto informato per quanto riguarda poi il mercato di turisti cinesi È una notizia che indirettamente potrebbe essere considerata come quella che conferma la roadmap delle prossime settimane E ripeto, i turisti cinesi rappresentano una fetta molto importante di introiti per la Thailandia, per il suo turismo Altra notizia, le Thai Agers conferma che per quanto riguarda il Song Grand Festival I giochi con l'acqua tipici di Castle Road non ci saranno Questo per evitare poi il boom di casi Questo sicuramente fa dispiacere i Thai perché è una cosa a quale tengono molto Quindi per tre anni consecutivi ancora una volta questi giochi d'acqua non possono essere considerati Questa era una notizia che era già filtrata nelle scorse settimane Poi ovviamente adesso è arrivata la conferma Ovviamente come sappiamo per quanto riguarda poi le misure che il governo andrà a prendere nelle prossime settimane Secondo me la questione sta diventando molto dinamica perché in Thailandia si parla molto del fatto che Insomma in questo momento di turisti in Thailandia ne sono arrivati circa mezzo milione nel 2022 L'obiettivo come sapete, ne abbiamo parlato sul canale poi nelle scorse settimane È di fare per il 2022 circa 7 milioni di turisti ovviamente finché non si aprirà pienamente Sarà difficile pensare di poter raggiungere questo numero Ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate per quanto riguarda questo piano di riapertura del governo thailandese Sia per quanto riguarda questi rumors del turismo cinese E per chi di voi invece ha fatto un song run in Thailandia Cosa ne pensate del fatto che purtroppo ancora questi giochi d'acqua non saranno possibili Io ho fatto un song run È un'esperienza veramente bella, interessante, ve la consiglio Come sempre ragazzi questa è la playlist Thailandia nel mio canale YouTube Mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Come sempre quindi ci riaggiorniamo nelle prossime giornate con nuovi news, nuovi video Per quanto riguarda la Thailandia un abbraccio e a presto